Il turno catalingo per una compresa, la domanda di mare è un vero più stante, però è molto più strada, se il nuovo è il corso, il corso è il corso, è questo che è quello che vuole fare. Sicuramente abbiamo pagato lo scorso a fare partita, con i due quarti regalati all'avversario, con i due quarti regalati, con i due quarti regalati e con i due quarti regalati all'avversario. Ora, sicuramente il risultato di due quarti regalati all'avversario, e questo è quello che non c'erano. Bisogna guardare la realtà, perché sicuramente nel caso di pensare di domenica, in questo momento una scuola così può risultare dell'eteria, però il secolo è un po' che c'è un po' di speranza, sicuramente già dalla prossima luna, la faccia di assurdo di risposta.